buongiorno a tutti buongiorno a tutte oggi giovedì 7 settembre ore 8 e 47 direte robbi impazzito robbi giusti impazzito va in onda alle 8 e 47 quando tutti siamo ancora dormienti o meglio siamo in pausa caffè oppure siamo siamo ancora quando dobbiamo fare colazione ci stiamo lavando i denti lavando la faccia asciugando i capelli buongiorno a tutti buongiorno a tutte e ho fatto la diretta presto per un appuntamento questa mattina quindi ho detto prima mi levo la diretta prima così l'ho già fatta e la gente non mi dice dove è finito quest'altro e quindi sono qui in diretta attendo che siate collegati la notifica vediamo se è arrivata la notifica mi dicono che già arrivata la notifica forse al mattino l'algoritmo dormendo ancora quindi attendo voi che siate collegati non vi vedo ancora ma l'orario veramente veramente anticipata questa mattina la diretta e quindi posso capire la vostra lentezza nella risposta intanto buongiorno vedo i primi collegati in questo momento salvini salvini il ministro salvini non le manda a dire e per contrastare il concetto delle baby gang questo questa brutta storia delle baby gang e propone e misure drastiche intanto ciao giovanna becci buongiorno buon caffè anche te ciao sabina ciao le ciao lino buongiorno buongiorno a tutti e andiamo subito la notizione vi chiederei di condividere come sempre l'inizio della diretta guardiamo insieme le prime pagine dei giornali insieme con il caffè con il caffè le prime pagine dei giornali partiamo appunto da libero tolleranza zero guardate questo articolano di libero scuola e galera per i baby criminali arresti in fragranza d'aspo e pene più severe per i minorenni fino a due anni di reclusione per chi non manda i figli in classe aia 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 salvini se un ragazzo uccide paghi come un cinquantenne quindi di fatto una vera e propria tolleranza zero quella delle delle leghista del nonché ministro matteo salvini che dice basta beh propone una tolleranza totalmente zero e abbiamo a centro pagina di libero invece la egonu no che è stata rovinata secondo questo articolo dagli anti razzisti fuori dalla nazionale la e la la giocatrice miglia è milionaria giocatrice stra pagata fuori dalla nazionale e c'è chi dice peccato c'è chi dice finalmente io sono uno di quelli che dice finalmente perché non amava la maglia ma lo faceva evidentemente solo per soldi e moneta e draghi e le regole europee shagura per l'economia l'ex premier a rischio i nostri interessi attenzione perché premier il premier l'ex premier draghi incredibilmente contro l'europa lo vediamo in questo articolo centrale incredibilmente contro l'europa sembra quasi un assist a giorgia meloni sarà forse anche draghi un meloniano il dubbio è lecito abbiamo intanto il giornale che ecco rafforza questa mia tesi questa mia ipotesi perdonatemi contro l'euro rigore draghi fratello d'italia in effetti l'ex premier interviene a sorpresa sull'economist l'europa non torna al petto dal patto di stabilità bisogna cambiare un assist dell'esecutivo meloni al centro abbiamo invece frecce irrispettose dei tedeschi l'ultima provocazione alto attesina non so cosa abbiano fatto però e se arald stauder accusa le frecce di nazionalismo forse gli hanno fatto davanti la bandiera dell'italia quando non dovevano farla potrebbero aver fatto bene cambiamo quotidiano andiamo a vedere cosa dice invece il fatto quotidiano tv e spot mediasi da ordini il governo esegue c'è un po di confusione a sollevarla e aziendam l'emendamento al freedom act europeo e contro netflix and company il gruppo pretende modifiche alle nuove regole e dell'unione europea alla destra le copia il biscione e d'estate batte la rai ovviamente fatto quotidiano non fa altro che fare polemica contro sempre la famiglia berosconi il governo di centro destra molto monottono in questo periodo il fatto quotidiano repubblica baby gang crociata di salvini abbiamo le anche il repubblica che parla di questa volontà di salvini di usare il pugno duro contro le baby gang il leader leghista se un ragazzino uccide deve pagare come un adulto pronto un decreto contro la violenza minorine tra le misure repressive il daspo condivido di telefonino e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola l'ipotesi della mezza manovra taglio alcune o solo fino al voto dell'unione europea sotto abbiamo invece una strage al mercato 17 morti e in ucraina una bomba russa attacca al mercato un atto a mio parere questo caso vile perché non è qua non si parla di guerra ma si chiama di atto terroristico allerta nato in romania vabbè e putin questa voce gli uomini di putin questa volta hanno veramente sbagliato veramente sbagliato andiamo a vedere il Corriere della Sera manovra stretta sui conti baby gang arresto in fragranza dai 14 anni l'ipotesi di vietare il cellulare ipotesi di vietare il cellulare dai 14 anni fino ai 14 anni ok e poi che dice vediamo migranti migranti di garrone 12 minuti di applausi il tempo delle donne sceglie la libertà cambiamo quotidiano vediamo se c'è qualcosa di interessante andiamo a vedere la verità attenzione verità la verità cosa tira fuori la verità oggi brigate verdi sbarco a milano non messo anche nei titoli principali ecco chi tira la volata e provvedimenti che ci impoveriscono brigate verdi sbarco a milano arrivano gli insulti del papa e la politica l'illegittima e così ci sono i risultati nel capoluogo lombardo il convegno dei residenti climatici dei resistenti perdonatemi è talmente piccolo che non riesco a leggere dei resistenti climatici eccoci qua tra programmi diliranti promesse di lotta c'è pure per francesco pregare inutile abbia più caraggio quindi se la pigliano col papa case green e tassi alti pure in francia corolla l'immobiliare grazie all'unione europea diciamo che l'unione europea sta amici diciamo che l'unione europea sta letteralmente distruggendo tutta l'europa no e non è a zecca una non è a zecca una io mi chiedo ma che cosa stiamo a fare in europa vabbè detto questo andiamo avanti e abbiamo trump a centro pagina abbiamo il donaldo donaldo che dice e trump in campo con gli operai l'auto elettrica un disastro e trump sbeffeggia i produttori di auto elettriche e poi rispunta grillo parla in cinese non è vero che che pechino inquina in verità è un video fake che è stato fatto fatto molto bene però sembra veramente grillo che pari in cinese la super toga di sinistra questa notizione questa notizione la super toga di sinistra perde con la verità cosa vuol dire il magistrato di ara giuseppe cascini ci aveva querelati perché avevamo scritto che avevano fatto pressioni per fare farsi eleggere al csm e piazzare il fratello milano archivia tutto diritto di cronaca congruo e pertinente ciao ciao e vabbè abbiamo visto anche la verità cambiamo quotidiano amici molto veloce questa mattina altra emergenza sbarchi altro articolo dedicato emergenza sbarghi acutro sbagliò frontex la procura di cortone l'agenzia europea indicò rotte posizioni errate la tragedia si consumò perché i soccorsi andarono in un altro tratto della costa quindi attenzione ecco questa questa cosa di cuto e frontex scagiona totalmente il governo di centrodestra vi ricordate che accusarono il governo melonia sono morti pidini accusarono e alla fine si scopre che fu un errore che mandarono i soccorsi da un'altra parte quindi scagionato di fatto il governo d'acqua da quella sciagura di cutro quindi pidini smentiti anche questa volta i pidini tutti i giorni vengono smentiti anche il messaggero via i telefoni ai minori violenti oggi il csm il decreto del cavano due anni di carcere i genitori se figli disertano la scuola io sono d'accordo arriva ad aspo e stretta sul porno rabbi funerali di jojo napoli sei tu non mare fuori poi abbiamo al centro pagina ma melona e meloni manovra detta la sua priorità tutti gli sforzi su salari sanità e pensioni speriamo perché il vertice senza giorgetti il tesoro avverte meno crescita nel 2024 intanto una notizia che non c'entra niente con con la politica e gli eterni i rolli sono eterni un disco a 80 anni nuovo disco 80 anni sono veramente grandiosi cambiamo quotidiano vediamo che cosa è rimasto volevo vedere la il mattino di napoli nulla nulla altro da segnalare nulla il resto è carino perdonatemi eccoci qua cercavo il resto del decanino e manovra ci sono le risorse solo per i salari meloni ai partiti della maggioranza sarà un anno complesso chiedo serietà un terzo degli stanziamenti per ridurre il cuneo fiscale il governo vara e stretta contro la criminalità giovanile due anni ai genitori e di chi diserta la scuola baby gang via cellulare anche qua la notizia a centro pagina abbiamo nicolo ciatti fu massacrato in vacanza il killer latitante lo sdegno dei genitori per la motivazione della sentenza se uccidere a calci non è crudele vabbè stendiamo un velo pietoso ogni tanto la magistratura c'è le sentenze veramente sono una cosa sono cose indegne indegna vabbè detto questo io vi saluto vi auguro una buona giornata abbiamo visto le notizie principali più tardi arriverò con le notizie del paragone ce ne sono già uno due nel cassetto veramente veramente pesanti ma adesso chiaramente non le anticipo perché abbiamo letto semplicemente le prime pagine dei giornali vediamo se c'è qualcuno dei collegati da salutare tutti donatella serafina salvatore ciao a tutti buongiorno rosario angelino tavito franco e vabbè detto questo vi saluto ciao lino lino ciao buona giornata a tutti vi voglio bene a più tardi